Victor Osman al Chelsea ci siamo, dice l'ex compagno di squadra della Stella del Napoli. Il passaggio di vecchio Osman al Chelsea è stato definito ci siamo, ma per ora non da Fabrizio Romano, bensì dall'ex compagno di squadra nigeriano dell'attaccante del Napoli, John Ogo. Vedi sotto come Ogo ha pubblicato quanto segue sul suo account decimo, ma senza ulteriore contesto al momento. E senza che nessuno dei soliti giornalisti di mercato apparentemente confermi nulla riguardo questo accordo. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che un giocatore che conosce bene Ozyman abbia sentito qualcosa che suggerisce che un simile accordo potrebbe essere sul tavolo. Quindi sarà interessante vedere se presto verrà alla luce altro. Fabrizio Romano ha anche pubblicato nel suo articolo Daily Briefing che Romelu Lukaku sembra destinato a lasciare il Chelsea per il Napoli. Il che sicuramente dà ai giganti di Londra Ovest qualche speranza di assicurarsi Ozyman, anche se con un accordo separato. L'arrivo di Lukaku dovrebbe significare che il Napoli avrà un buon attacco, oltre a liberare spazio al Chelsea, oltre alle ingenti risorse che sarebbero sicuramente necessarie per ingaggiare il 25enne. Ozyman ha brillato per il Napoli e sarebbe un'entusiasmante aggiunta alla Premier League.